Ciao a tutti sono Spiegelam e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale Siamo sulla Techcraft Iniziamo di nuovo a fare video sulla Techcraft Come avete capito E niente, sento dei bastardi che mi rompono le palle E niente, non mi ricordo l'inche cosa stavo, cosa facevo E ciao, ce la posso fare Cosa stavamo facendo Questa me la rimetto Non ho attrezzi Allora, fammi vedere Materie minerali cioè Non ho ne merito Asso Avevo perso la La turtele Quindi mi tocca rifarla Non riesco a parlare Uno stone bricks Stone brick Massimo giusto No bricks Fa pene, fa pene Ho cobblestone Certo, mi ricordo Ne ho per forza Giusto? Ah no, dove sto andando? È qui È qui È qui Dobbiamo finire anche di trasferire Fero Ah L'avevo già messo a cuocere Pene, pene Allora, cobblestone Teleton Allora, scusatemi se non sono più Insomma, non ho più la chiacchiera che avevo prima Non riesco Sono più dislessico del solito Ecco No, vi spiego È passato un bel po' di tempo Perché non c'è la crafting della turtle Va bene Me la ricordo io da Allora Stone Così Cosa mi serve? Cosa mi serve? Cosa mi serve? Ah, sì Poi Mi serve vetro Che non trovo qui Ok, forse devo guardare i cartelli In effetti Allora Quello che voglio fare oggi Oltre a mettere la turtle La turtle Che si fa Con il ferro Con una chest Ma io ferro ne ho La risposta è no Ma forse ce l'ho ancora lì Spero È notte? No Per fortuna No, ma sento dei ragni Quindi Eeeh Ciao Ma giusto Di giorno non mi dovrebbero fare del male Sti bastardi Caricati chunk Capisco che da molto Che non Qua sta funzionando il tutto Non credo perché Avendo appena aperto il gioco Facciamo così Rename Rename, sì Pietra Startup Ok Reboot In questo modo Il programma che si chiamava La pietra Che quindi non si avviava automaticamente Chiamandosi startup Si avvia automaticamente Tu mi sa che dovrei essere distrutta Ma non ora Qui non abbiamo Sì La spada O un altro Piccons Ma mi sa che prendo tutto Dai O magari no Merda Allora Ma sì Y C'è altro spazio Yes Do a fare un sacco di torce Perché Prima era notte Sono andato a dormire io Ma prima era notte Ed era pieno di Moab Moab Questa pronuncia Ma comunque davvero Scusatemi se non ho più la parlantina Di prima Non riesco ancora A riabituarmi Pian piano Allora Cosa tutto Molti attrezzi Un arco da aggiustare Stavo dicendo Oggi Oltre a fare tutte Ste gazzade Ho intenzione Di produrre Merda Ma Non Andate in conclusione Affrettate Vi spiegherò tutto Quando Sarà il momento A tempo debito Sì Forse è meglio Se me lo faccio in Off camera Che ne dite Ma no Tanto adesso lo smetto Se ce la faccio No Volevo calcare qui Ciao ciao Gravel sei qui No C'hai la tua cosa Giusto Deployerla in elettronica Poi cosa abbiamo Questo Non l'ho dimenticato Ho sbagliato Oddio Non sono più neanche abituato A giocare Ma Non può essere Non Può Essere Va bene Basta Mettiamo a posto Ok Come andate a farvi Futtere Mi prendo le attrezzi Che mi servono Ok Allora Tu prenderai a farti Fottere Devo fare una cosa Dovevo fare qualcosa Ah sì 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 Vedere se innanzitutto Ho preso Feo No affinato Naturalmente no E quando mai ho fortuna io Vai Più veloce della luce No no non volo Sperta Devo farmi un Un qualcosa per volare Vabbè ci credo che non c'era ferro Non ci sta nient'altro Siete sicuri Ah ah Ok basta Ho delle torce No no ho delle torce Andiamo Corriamo verso casa Perché sento dei mop Mop Basta Stop dicendo cazzate Sto dicendo cazzate Ehm Ho intenzione di creare una serie su Sulla tecnologia Lo chiamerò tipo Tecno Oppure Spiga 98 Tech Sì Spiga 98 Tech Mi piace Tratterà Esattamente Cioè Si comporrà così Insomma Si comporrà in delle puntate Normalmente Che saranno divise in miniserie Cioè Ci sarà Spiga 98 Tech Che sarà divise in altre miniserie Ok In questo modo potrò fare Per esempio La prima miniserie Che ho intenzione di fare È quella su come assemblare Un computer E quindi Più profondamente Più Come si dice Insomma Generalmente è come assemblare Un computer Ma spiegherò Molto Molto Come si dice Insomma Avete capito Spiegherò molto Profondamente La funzione Del Del determinato Hardware Anche tipo Che ne so Processore serve a questo Scherano serve a quell'altro Insomma Avete capito Non avete capito Fa chiù Ho due dei monti Megalitico Quindi spero Che l'idea vi piaccia Comunque Fatemelo sapere Se non vi piaccia Ma Shishiku Do che vi piace Mi piace Parlare così No non è vero Allora Stavamo dicendo Ah si Magari vi spiego anche Cosa significa Il fatto che voglio Produrre Merda Merda Non sarà una cosa Abbastanza semplice Però non mi fai Un emerito Cazzo 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 Palazzo Cazzo Tac 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 Mettiamoci anche Questo Perché non ho calcato Shift Pellatopanta Minerali Tu non sei minerale Tu si Tu si No Tu si C'era qualcosa In natura Tac Tac C'è qualcosa Che non Ah si 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 Niente Va bene Mettiamo innanzitutto La chest Non mi ricordo L'ordine Ma non mi ne fega Niente Devo cuocere Un po' di ferro Dimmi che ce l'ho Un po' Ehi Ehi Quando mai Devo Ah è vero Che si fa così Devo Grindo Stonare Un po' Di Iron Perché ce ne servono Esattamente Sette pezzi Credo Sì Sulla matematica Non è un'opinione E così Ce la faremo Prima o poi Ok Forse è meglio Se lo faccio Ah no Perfetto Si è dato da fare E mi ha dato Soddisfation Ok In questo modo Possiamo fare La turtle Che si fa Così Anche se non capisco Perché non c'è il crafting Di che mod è Oddio Cosa ho fatto No Di che mod è Si fa così Giusto Computer craft Non si fa così Non si fa così Tipo se io scrivo Railcraft Tac Tac Se scrivo Mod Punto railcraft Tac Niente Ha deciso di non funzionare Brutto bastardo Elf Anche questa è modalità natale Ah sì Mi sono dimenticato di togliermi Tipo la skin Tipo di natale Tipo Ma sono piccoli dettagli Mi serve un piccone Aspetta ma io ho perso quella di diamante Col piccone di No 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 Di diamante Non mi ricordo Vabbè non me ne f***a Non saperesti che Peccato che ho solo due Vabbè ce ne facciamo un altro Il di Piconhausen Abbiamo Sì Ne abbiamo Sì C'è un bel piccone E lo attacchiamo Alla elf Mining elf Mi sembra giusto Ma Fatemi vedere un pochino com'è Oh ma che carina E' come le ceste Di un paio di giorni fa Se mi seguite su Ops Su golplast e su twitter Avrete visto Lo screen che ho fatto Perché è la mia prima volta In cui Vedo questo Di solito Non tocco il computer a Natale Ma Questa volta Non l'ho toccato In sincerità Però Per quanto L'ho appena acceso Che ne so Non mi ricordo esattamente Per cosa Ah si Per una segnalazione vostra Eh Ho visto le ceste Figata Pazzesca Tu devi Tipo venire con me Ciao Venire Vieni con me Quanto siamo Tre stacche Trentanove Sembra Che stia funzionando Ma io Ho No Dai ve lo spiego Ve lo spiego Allora Raccoglieremo merda Per un semplice motivo Allora Con la merda Si fa i concime Nella realtà Questo funziona Oddio Ho mollato il mouse Questo funziona anche Sulla Come si chiama Se mi chiama Vabbè Non fa niente Grazie Però mi hai fatto Fare un salto Così dalla sedia Moto di merda Dicevo Materiale di soluzione Serve Per creare concime Anche qua Su minecraft E sapete come? Tramite dei macchinari Che raccolgono la merda Che gli animali produrranno Poi vedremo Con attenzione dopo Mi sa che non ci bastano 20 minuti Quindi faremo una puntata A 30 o 40 minuti Al massimo Che figo Mi piacciono le puntate A 40 minuti Ma sono dettagli No Minerali Cosa abbiamo Questo sui minerali? No Sembrerebbe No Natura Cibo Minerali da cuocere Tac Tac Materiale da costruzione Minerali No Sto sbagliando Ecco Sono un po' silenzioso Ma ve l'ho già spiegato Non sono ancora abituato A A parlare Non a parlare Lalalala A Interloquire nei video Avete capito? Certo che avete capito Siete Abbastanza intelligenti Sì E' notte Ehm Sì Mi sto prendendo più il culo? No Non mi sto prendendo più il culo Oh, scusate un attimo. Eccomi qua. Purtroppo la texture pack non è più supportata. Che schifo, fai schifo. In realtà non so cosa è successo. È passato una decina di minuti. Perché c'è il FOV? Non c'è il FOV? Oh mio Dio, che merda. Comunque dicevo, purtroppo... Allora, ho dovuto chiudere FTB. Cioè, in realtà spegnere il computer. E quando l'ho accesa mi è uscito che c'era un aggiornamento, io l'ho fatto e si è tolta la texture pack. E ho guardato e non esiste ancora la texture pack. Per questo... Per questo... Ma come cazzo si dice? Modello? No. Ma non ce ne frega niente, la troveremo prima o poi. O al massimo ne trovo un'altra. Mi sta intrigando molto la shader mod, sinceramente. Non so perché, ma è fighissima. Va bene, mettiamo questa... A cuocere. Dove la mettiamo? A cuocere, scusatemi. A scavare. Ecco la parola giusta. E poi facciamo quello di cui vi ho parlato prima. No, qui no, dai. La mettiamo... Lontano la casa. Qui. Sì. Peccato che non ho preso niente come combustibile fossile. No, combustibile basta. E allora, cosa prendiamo ora, ragazzi? Consigliatemi. Uffa, sbaglio sempre. Coal, certo, come no. Ah, legno. Sti gazzi. Sì, lo so, sto sprecando legno. Ma non me ne frega ne merito, cazzo. Cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Oddio, mi sembrava un fuoco d'artificio. Ho detto, ma che... Fa bene. E allora, refuel. All. Quindi, quanti blocchi? 3840. Da che parte scava? Verso sinistra? Fammi pensare. No, non mi piace qua. Che cosa ho fatto? Ho distrutto la MindTartle senza... Senza niente, intendevo, cioè, tipo... Ho sprecato carburante. Vabbè, è uno stacchino da qui. Sono certo che me lo può prestare. Ok, andiamo. Ho cambiato idea, non lo posiziono qui, però. E poi mi sono dimenticato di fare una chest. Ma non c'è problema. Che problema c'è? Che problema chest? Allora, un, due, tre, qua, cin, sei, sette, otto. Ho sbagliato. Fa più. Ma la facciamo doppia, dai. Perché metto sempre... Vabbè, mi droppa. La, 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 la... Cosa? Sì, sei qua. Perfetto. La MindTartle la metto qui. Sì, io la metto qui. No, però dovrei mettere prima... Queste. Una, due. E poi la metto qui. Tac. E le dico... Innanzitutto... Le dico Refuel All... Vai, vai, vai. Poi le dico... Excavate... Cinque. Non esageriamo. Più che altro voglio vedere da che parte si gira, non mi ricordo. Perfetto, ti amo. Vieni che ti... Shift. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Oddio, mi ammazza. Pene, pene. Ora possiamo antare. Iniziamo quello che... Di cui vi avevo parlato cinque minuti fa. Allora. Per fare quello di cui vi ho parlato. Ci serve... Un macchinario. Della... Grazie, coglioni. Eh, scusate. Ci serve un macchinario del... Scusate, mi sto grattando la schiena perché mi produddeva... Ci sono macchinari. Stop, non mi viene il nome. Oh, ma in Factory Relate. Oh, bravo. Bravo. Spicamo tutto. Eh, niente. Per farlo, quindi, ci serve. Spero di averne. Neoneoneoneoneoneoneoneoneoneonesix. Dove 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 dove? Un brano, basta. Plasticsheets. Sì, abbiamo anche rubber. Abbiamo plastic Merdison. Merdison. si ce l'abbiamo e dobbiamo fare il sewage collector in reality ne dobbiamo fare molti tipo 12 facciamo siccome ne fanno a 4 a 4 quindi 9 di questi tanti brick tu come ti fai plastic sheets come si facevano con questo che sarebbe la gomma cotta la gomma cotta va bene cuoci e ci rivediamo tra poco eccoci qua abbiamo fatto anche queste quindi qua come siamo messi è finito non ce ne frega niente fuck off quindi ci serve ce le facciamo tutte che ne dite ok perfetto facciamo tante si ho stone quindi posso fare anche tante di quelle quindi quanti ne devo fare allora sewage collector no ho sbagliato no ho sbagliato sei tu 2 2 2 2 4 8 9 10 11 12 facciamo 16 dai 16 quindi 3 6 9 12 di questi e 4 di questi quindi così ma è bellissimo perfetto perfetto come si faceva mettiamo quello che abbiamo già c'erano 4 6 chiellozzi ozzi ozzi c'erano 4 6 non ho sbagliato sei tu 2 no non mi dire che devo ancora 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 ops ok possiamo cuocere questo nel tanto sparrelliamo questa merda non è che ce ne è già no naturalmente e poi continuiamo 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 a sparrellare questa merda sparrellare non vuol dire niente per la cronaca sbaglio è notte no mi sembra di sentire il rumore di basta si mi sembra giusto lo metto senza carburante stanno scavando bastardone stanno scavando la tartolina dove ti trovi? non mi ricordo eccoli qua dun 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 perchè ti fermi? perchè ti fermi? zitta andiamo nel salvataggio della cazzo di tartle tartle hai veramente finito il carburante? no ah che stupido ho fatto come si dice i chunk ho fatto scaricare i chunk eh ma fa chiù però ahia bastardone fa chiù però non ti voglio io quindi tagliamo su non so io cosa fare no ho sbagliato ok so io cosa fare la rimetto dov'era semplicemente cioè qui non dov'era dove l'ho fatta partire in modo tale che riprenda la stessa dove sei? eccoti qua no no l'ho rifatto ma come cazzo si fa? devo dirle di salire devo darle i comandi allora devo sprecare un sacco di altre linee perchè non ho carbone sto ancora parlando così come un mongolotto un mongolostrogotto bene il timer è suonato ma ne aggiungiamo altri dieci minuti si dai 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 stavamo tiziendo ti amo alloga oddio un due tre quattro refuel all mamma mia quanto tempo ci vuole escavate mi pare cinque andiamo un po' si ciao turtle si ma ah beh perchè sono andato verso la perchè dovete sapere che devo cercare delle vacche mi servono delle vappe va va vacche per questo progetto e sono dovuto andare lontano e le ho trovate ora non so ancora come portarle perchè non ho grano però oh ce le ho eh no però un seme si mi farò tantissimo grano con quel seme certo eh non ci basta ancora il ferro basta il ferro basta mi stai torturando quindi anche oggi facciamo una punta tozza da 30 minuti ah per quella storia di spiega 98 tech non si fermerà soltanto a come assemblare un computer che sarà la prima la prima miniserie di quelle di quella serie scusate il gioco di parole far altre cose adesso non so precisamente cosa perchè come al solito quello si fa vivendolo londolondolondolondolondolondol vabbè a parte di scherzi si vedrà quando sarà il momento non lo so ancora neanche io cioè per adesso ho soltanto quello perchè ho avuto la possibilità di farlo cioè adesso per voi ho ordinato una scheda madre ram insomma alimentatore un po' cosa ho ordinato processore lontolo cd insomma un computer non è molto non è un computer del cacchio giusto per spiegare non è che mi serve cioè in realtà mi servirebbe lo dovrei usare come una specie di server per questa serie stessa perchè ho notato che pesa un casino mondiale e vorrei evitare questo perciò vorrei io starlo a casa mia per evitare anche lag e costi soprattutto costi in realtà ne pago già uno però mi basta quello quindi niente devo cuocere altra roba cosa devo cuocere? oddio clay ne ho ne ho clay ne ho di quasi merda ma forse lo fate no la risposta è notte andiamo a dormire e poi andiamo a prendere un po' di clay un pochetto un pochino poi voglio fare anche una serie l4d2 online magari con sirbo 98 visto che lo conoscete già a proposito non c'è ancora in questa serie perchè non lo so perchè doveva esserci ma non lo so non ci siamo organizzati comunque cosa devo fare? anzi la mia memoria è quello che è oddio rani di merda dove siete? oddio che succede? ok no no ok niente ok si qua c'è clay? no cioè si probabilmente si però molto basso molto basso italiano devo dire molto molto profondamente si si ci prendiamo questa clay ozza tac 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 mi sa che dovremmo usare il trucco allora per chi non lo sapesse non so se funziona ancora si c'è un bug o non so se si è fatta apposta insomma quando stiamo per soffocare mettiamo una torsola davanti a noi che si sdropperà da sola e che ci permette di avere ossigeno tra le virgolette infinito in modo tale da poter avere tutto il tempo necessario per raccogliere quello che dobbiamo raccogliere sott'acqua pene pene dai ci basta così 52 pezzi ma what the fuck holy fucking basta ho bisogno di cibo userò questo perchè le mele sono troppo importanti fa bene aspettate che metto questo qui che mi da fastidio e poi mettiamo a cocere questa la mettiamo tutta si tutta qui però esattamente quanti ce ne servono quindi 2 4 16 ce ne servono 16 quindi si mi sa che faccio anche questo off camera dai ci vediamo tra poco ok allora quindi stavamo dicendo si come avete capito non ero esattamente davanti al pc l'ho lasciato fare ok allora devo darcene 16 16 16 16 16 però siamo nella merda perchè ci servono dei tubi che noi non possiamo avere cazzo non ci avevo pensato niente merda in questo episodio mi sa ops 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 in questo episodio non abbiamo fatto niente praticamente scusate mi dispiace tantissimo giuro scusate questo non ci avevo pensato vabbè dai oggi produciamo energia cosa vuol dire che vi dica non è la stessa cosa più o meno no allora oggi creiamo una batbox che si crea così batbox ah 3 4 5 pezzi di ferro si stavo per dire ferro e l'ho detto in effetti però sono dettagli 2 3 4 5 un cavetto che ho usato qui vabbè li prendiamo tutti dai lo mettiamo qui e poi 3 batterie che non sono molto semplici da fare cioè sono semplici parliamo però ci vuole tanta gomma quindi 2 4 6 6 pezzi di redstone di runstone 6 pezzi e poi 4 8 9 10 11 12 4 12 in effetti potevo farlo anche a meno quindi ehm si certo odeltine odeltine ah 2 4 6 8 10 10 12 ok oh senti fa q ferro fa q ferro si ce la possiamo fare vabbè io la faccio offline sentite ma off camera anche questo ma mia quanti clip oggi ci vediamo apra poco apra poco apra poco apra poco scusate ciao a tutti a fra poco ok ci manca l'ultimo e poi siamo a postolo ecco qua ok no ops si ok era così cazzo no ma che faccio però avevo gomme giusto no devo cuocere ma perché devo sempre cuocere tutto no aspetta che cosa sto facendo sto facendo no usage 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 non la uso si ah ok già pronta però naturalmente non avrò copper ti amo copper ti amo tanto ascolta facciamo così abbiamo i fili citti ok per fare tre batterie no scusate ho sbagliato le batterie le mettiamo in questo modo aspettate un attimo ecco qui in questo modo e abbiamo una batbox la batbox è una specie di accumulatore no è una specie è un accumulatore energetico che rilascia quando viene quando viene collegato a macchinario energia per non ricordo allora 512 64 32 16 non mi ricordo non mi ricordo sto dando numeri dell'otto probabilmente probabilmente facendo conto che macchinari li metterò qui la batbox la metto qui tutto è entrato una sola uscita quindi la uscita la mettiamo verso giù e questa è la nostra batbox rilascia 32 EU per TIC che è il sistema di misura internazionale no scherzo il sistema di misura di minecraft di questo modback perlomeno però non lo so bene 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 allora credo no no non credo più un generatore ci serve un generatore anzi più di uno però per adesso allora andremo a fare un generatore che abbiamo già visto praticamente nella farm di alberi ma magari lo faccio off camera e ci vediamo fra poco eccoci qua ho fatto un generatore ho fatto anche la nanna perché sto laggando comunque ok niente ci serve niente perché ho fatto una cazzata ci serve una varence una varence allora vediamo un pochino se abbiamo quello che penso no sembra no ma forse l'ho messo qui ma non ci basta vabbè allora la varence serve per rimuovere il la 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 batbox solo che non ricordo neanche quali mi serve tre pezzi di ferro li abbiamo no ne sono avanzati solo due ma porcaccia la puttanaccia ma perché eh ci serve per rimuovere la batbox senza che diventi se noi la distruggiamo col piccone la batbox diventa un generatore oppure un no no un generatore il che non è che ci farebbe tanto problema ma ce li farebbe ce li farebbe in effetti perché a me non serve un generatore bensì una batbox quindi indie indie come giochi ok basta taradah 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 dai dai perfetto bla 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 cosa serviva stone gear quindi stone gear si fa con lo stunno o con la cobra stone domande esistenziali 1,2,3,4 Sì, il timer dice che È finito il tempo Ma noi aggiungiamo altri 5 minuti E chi si è visto, si è visto Accettare 5 minuti Gli ultimi 5 minuti perché poi devo veramente andare Perfetto, stone gear Anche perché Se non finisco qua non mi basta un terabyte Per questa puntata Spero che sia la giusta branch Ti prego, fa che sia la giusta prima Ma porca puttana Porca puttana Ce la ho già tra l'altro No, sì, sì C'è il cuore, sì Il giorno con cosa si faceva Indigo flower Purple dye Indigo flower Non ce l'ho Pene pene la lasceremo lì Lo decido così Poi sistemo Non hanno ancora risolto quel cazzo di bagno Vabbè Ci calza a pennello Come si suol dire No, no Si è un bastardo Ok, oggi è una puntata Abbastanza Come si dice No, una puntata, una giornata volevo dire Abbastanza no Ecco Ecco Vabbè, mi sa che oggi non facciamo un bel niente del cacchio Per colpa di quel cacchio di creeper del cacchio Che non ci stavano a fare niente Che cazzo Eh, che cacchio volevo dire Porca merda Potevo rientrare dentro Ma sarebbe esplosi tanto Ma perché mi devono tirare Tra l'altro No, la batbox Ah, grazie a Dio Ora dimmi che ho Grazie a Dio Chiudiamo la porta Fanculo creeper Non mi fai paura Sto scherzando Ah, ci serve una di queste Poi vi spiego il perché Non ve lo spiego Perché mi sta tanto antipatici Siete degli stronzi Vi odio Ok, basta Sto Inter No, come si dice Inter Ok, basta Non mi riviene il termine Come il solito Come il solito Come il solito Poi sistema off camera Non so neanche come fare La vrenciola Ok Adesso qua non ci mettiamo niente No, sto scherzando Facciamo uno stack a testa Sì One stack Two stack Tre stacks E vedremo che qua Si ricarica la batbox Bene, questa energia La autogenizzeremo Nel prossimo episodio Perché ho veramente Finito il tempo Anzi, quasi quasi Vado a controllare La tartola E poi chiudo la puntata Va bene Andiamo a controllare La bastardo di merda Mi stavi facendo Un'imboscata Non sono Dell'umore adatto Anzi Più che dell'umore Della vita adatta Ho visto un altro No, era un albero Sono io che faccio Questo rumore Sì Sì, ero io No Ok Andiamo qui Qui o qua Oddio santo Grazie Perfetto Possiamo chiudere La puntata qui L'ho lasciato Qualche pezzo di legno Perché anche qui Bene Grazie Minecraft Ti ringrazio Io non sopporto Quando lascio un pezzo di legno E non si sdroppa Non si sdroppa Non sparisce La chioma Folta Chioma Folta Chioma Caric Benissimo Quello la toglierò più tardi O probabilmente Non lo toglierò mai Ma sono dettagli Allora La puntata finisce qui Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Io sono Spiegan98 Mi trovate come sapete Su Twitter Google Plus E sul mio sito Spiegan98.10.mx Ci vediamo nel prossimo episodio Ci vediamo nel prossimo episodio Probabilmente Come vi ho già detto Aspettate qualche video Di conferma Qualche vlog Sicuramente Per La storia Del Spiegan98.tech Ci vediamo Nella prossima puntata Ciao a tutti Bye Tak Ops